allora come avevo detto cerco di riassumere in breve quello che fondamentalmente dice Pirandello Pirandello è interprete proprio del male di vivere dei suoi tempi ovvero del novecento in un certo senso in Italia ma anche perché Pirandello è uno scrittore erede di filosofi come Schopenhauer come Nietzsche è uno scrittore che sicuramente ha studiato moltissimo Freud l'idea fondante del suo pensiero che la crisi dell'io e della persona deriva proprio di là in un certo senso ma perché interprete del proprio tempo prima di tutto perché Pirandello parla della crisi della realtà oggettiva così come essa è cioè la crisi della realtà oggettiva come noi l'abbiamo per esempio già studiata in relazione al positivismo no Pirandello non pensa che la realtà possa essere interpretata unicamente con la ragione o perlomeno in un certo senso non solo così dall'altra parte Pirandello mette in crisi il concetto di io e il concetto di persona proprio perché dirà che ciascuno di noi non è quello che pensa di essere ma è proprio tutt'altro o probabilmente non sa nemmeno lui che cos'è per Pirandello tutti viviamo una condizione fondamentalmente spersonalizzante e la viviamo perché siamo tutti inseriti in un sistema capitalistico cioè in un sistema economico in cui domina il mercato in un sistema in cui fondamentalmente tutti siamo schiavi diciamo così della grande industria e dobbiamo produrre no il famoso concetto di massa che è legato alla prima guerra mondiale che è legato alla produzione economica in un certo senso della 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 società di massa quindi della grande società industriale eccetera e poi perché in realtà siamo tutti fondamentalmente schiavi e legati ai grandi apparati burocratici degli stati moderni che sono in realtà totalmente spersonalizzanti viviamo tra l'altro in grandi città cioè nelle grandi metropoli tipiche del novecento in cui fondamentalmente l'individuo il soggetto la persona con le sue caratteristiche singole e fisiche personali evidentemente non esiste più la realtà per Pirandello quindi non è assolutamente unica ma la realtà è un fatto molteplice e moltiforme e molteplice la realtà ha un'infinità di valori o di possibilità di interpretazioni soprattutto la realtà non può assolutamente essere osservata da un unico punto di vista non va bene che la interpreti solo io il mio modo di interpretare la realtà è esattamente il contrario magari è totalmente diverso rispetto a quello diciamo di un altro Pirandello infatti ritiene che tra flusso tra vita e forma vi sia una enorme differenza per Pirandello la vita non è esattamente quello in cui siamo immersi la vita è proprio un flusso così come diceva Nietzsche così come diceva Schopenhauer cioè un flusso continuo indistinto di elementi che scorrono senza nessuna differenza è come un fiume è proprio un fiume in piena in cui non si distinguono le gocce d'acqua per così dire dal flusso ogni tanto si stacca un individuo si staccano gli individui gli individui che sono la forma alla fine ecco perché vita e forma non sono la stessa cosa gli individui si staccano appunto dai fiù dal flusso e diventano forme cioè diventano individualità diventano soggetti che sono convinti di possedere una identità individuale nella realtà dei fatti però quella identità che ognuno di noi pensa ad avere è assolutamente fallace è una cosa assolutamente falsa proprio perché nella realtà dei fatti l'identità che ognuno di noi pensa di avere in realtà gliela danno gli altri gliela dalla società e la società che mette addosso a ciascuno di noi la maschera ed eccoci quindi al concetto fondamentale di Pirandello e cioè il concetto di maschera il concetto appunto di questo elemento in un certo senso che ci dà l'identità e che tutti possediamo queste forme ovvero le maschere sono in realtà appunto attribuite al soggetto dalla società dagli altri dal mondo che ci circonda ciascuno di noi ha una forma ovvero ciascuno di noi ha una maschera anzi non una sola e queste maschere vengono proprio dai rapporti sociali che ciascuno di noi ha ecco perché essendo evidentemente ruoli queste maschere esattamente come su un palcoscenico no ognuno di noi è per alcuni tanto per dire un bravo ragazzo per altri una cattiva persona per altri un soggettaccio per altri un malvagio per altri un grande genio eccetera eccetera beh queste maschere per ciascuno di noi sono appunto vere e proprie vere e proprie trappole cioè sono sono carceri in qualche modo Pirandello infatti ne individua tre di questi di queste trappole di questi di questi carceri in cui tutti siamo siamo rinchiusi la famiglia il lavoro e le istituzioni la famiglia è un carcere ed è soprattutto una trappola appunto perché in realtà all'interno della famiglia ciascuno ha un ruolo molto preciso il padre è padre quindi si deve comportare da padre deve portare i soldi a casa e deve fare questo e deve fare quello come farebbe ciascun padre la madre questo il figlio è questo che ha quindi ogni ognuno ha la sua identità individuale nel lavoro poi ovviamente ciascuno assume un ruolo quasi schiacciante nei confronti dell'altro il capo schiaccia l'individuo sottomesso l'impiegato è schiacciato a sua volta eccetera 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 insomma la società è costituita secondo Pirandello da questo infinito insieme di forme ovvero di maschere che altro non sono che trappole e che in fondo nascondono il fatto che ciascuno di noi non sa proprio chi è non ha la più pallida idea di sapere quale sia la propria identità vera ci si potrebbe chiedere come fa Pirandello se da questo sistema di maschere vi sia una possibilità di fuga Pirandello ne individua tre l'immaginazione quello che lui chiama il forestiere della vita e quello che succede al suo romanzo principale non nel suo testo fondamentale al fiumo Mattia Pascal che è proprio il suo più importante testo e poi la follia e perché sono così importanti questi testi e perché sono così importante importanti queste vie di fuga perché il personaggio pirandelliano a causa proprio di un trauma che accidentalmente gli capita evidentemente interrompe la sua vita il suo flusso vitale normale e di conseguenza con una forma traumatica molto grossa che Pirandello chiama folgorazione si rende conto improvvisamente che l'identità che aveva fino ad allora è falsa e che quindi fino ad allora ha vissuto soltanto una grande menzogna in quel momento il personaggio esce per la prima volta al di fuori di sé Pirandello dice che in quel momento nel momento della folgorazione il personaggio per la prima volta si vede vivere e si accorge di avere indossato fino a quel momento una maschera ecco perché il personaggio a quel punto evidentemente comprende esattamente questo cioè comprende che è possibile una via alternativa ci sono personaggi per esempio che da quel momento cioè dal momento della scoperta di essere sbagliati evidentemente di essere in qualche modo non non conformi si rifugiano nell'immaginazione e quindi immaginano di vivere in un altro posto di vivere in un'altra situazione di vivere in un'altra condizione ci sono personaggi come capita in una famosissima commedia di Pirandello appunto che si chiama Enrico quarto ci sono personaggi che si rifugiano nella follia oppure ci sono personaggi come capita appunto che ho detto al fu Mattia Pascal che assumono la coscienza di essere maschere e che in qualche modo sbontano le maschere degli altri oppure che in qualche modo evidentemente capiscono con una forma di saggezza di superiorità evidentemente rispetto agli altri che la vita è tutta una pupazzata cioè che la vita alla fine altro non è che un'enorme mascherata. È chiaro però che nel momento in cui il personaggio comprende perché ha subito un trauma che la propria vita è una falsità che la propria identità è una maschera è chiaro che il personaggio proprio senza maschera non possa vivere e quindi alla maschera che il personaggio ha portato fino a quel punto se ne sostituisce immediatamente un'altra che appunto può essere in realtà una di queste tre o l'immaginazione o il forestiere della vita oppure la follia grazie a tutti grazie a tutti